Io avrei bisogno di andare in bagno. Quando? Proprio ora. Ecco, falla da qui. Peter, per favore! Che c'è? Non posso mica buttarmi dentro. Non dico questo, ma almeno potresti avere la decenza... Dai mamma, fa vedere la ferita. Sì, credo che mi sia già venuta l'infezione. Va bene, ora prendo il disinfettante. Cosa? No, non è poi tanto grave. Non serve, lascia stare. Invece serve. Lo dici anche tu quando arrivi con questo spray che brucia. No, no, Felix, ti prego, no, ti prego. Invece sì, è molto importante. Attenzione, adesso stringi i denti e chiudi gli occhi. Ecco, è brucia! Brucia da morire! Però disinfetta. Oh no! Ora sono tutta bagnata. Va bene, ti asciugo col forno. Accidenti! Scusa, papà. Oh cielo! Felix, tira fuori papà! Sperto, muoviti! Felix! Oh no! Che schifo! È disgustoso! Ho capito, adesso vi serve un bagno a tutti e due. Pieter! Che c'è? Tu dovresti aggiustarti la barba, papà. Eh? Sì, sono d'accordo. Con il rasoio elettrico? Ne sei sicuro? Volentine, potrebbe essere molto... Ops! Come sei bello! Ha? Sì